Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning In questo nuovo video andrò a montare le plafoniere a led di Xenon per tutti Su questa Alfa Romeo 147 di un ragazzo Le ho acquistate presso di me e io ho fatto, visto che era di Roma, il favore di montarle E mi sono fatto questo bel tutorial che potrebbe essere utile a molti di voi In quanto ho notato che su Youtube non sono presenti tutorial riguardo luci della 147 Quindi ne ho approfittato, queste sono delle plafoniere 6000 Kelvin veramente buone Senza parlarne troppo io direi intro e cominciamo subito con il montaggio Cominciamo quindi con il montaggio delle plafoniere a led di Xenon per tutti Molto semplice, con un calciavite piatto a taglio bisogna infilarlo nello scanso della plafoniera Fare leva e questa viene fuori molto semplicemente Qui ho collegato la resistenza della plafoniera a led e ci ho fatto un giro di nastro isolante In quanto non è protetta, cioè non è ermetica ecco quindi Non devi evitare umidità e robe varie Comunque gli ho dato una nastrata che non gli fa comunque male Per sfilare la plafoniera dalla lampadina basta ruotare l'attacco e ho tolto le lampadine a led che aveva Michele sulla sua 147 Erano delle lampadine a led cinesi, una era rotta e l'altra sfarfallava quindi erano da buttare Ho collegato poi la plafoniera e ho fatto la stessa cosa nell'altro porta lampada Questa volta ho messo un po' di scotch perché l'ex proprietario ha rimontato male la plafoniera E quindi non ci stava molto spazio di manovra Quindi onde evitare danni al paraurti della macchina ho preferito agire in sicurezza Mettendo un po' di nastro adesivo così da proteggere i paraurti E' stato un po' più complicato in quanto non avevo appunto spazio di manovra E ci ho messo leggermente di più a toglierla Però niente di complicato basta spostare anche un po' indietro il copri d'arga in quanto è ingombrante Poi stessa cosa si ruota l'attacco della lampada, si sfila la lampada Questa era quella fulminata Attacchiamo la plafoniera, attacchiamo la resistenza Questo è tutto il kit comunque fornito da Xenon per tutti Di cui lascio il link in descrizione Ovviamente se volete potete acquistarlo tramite me e ricevetete uno sconto Ho sempre nastrato nuovamente l'attacco perché ripeto non è ermetico E quindi l'umidità potrebbe rovinare i contatti Ma non dovrebbero esserci comunque problemi in quanto non entra acqua in quella parte del paraurti Ovviamente le abbiamo testate, sono funzionanti Come potete vedere dalle immagini sono veramente bianche Poi le ha testate Michele di notte, gli sono piaciute molto Mi ha mandato queste foto Devo dire che l'effetto è molto molto bello rispetto alle lampadine cinesi che aveva prima Che tendevano all'azzurrino, vi lascio anche questa immagine delle vecchie lampadine Quindi possiamo notare una netta differenza Quindi niente Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Lasciate un bel mi piace Commentate Per questo video è tutto ragazzi Io vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti